Molti conducenti di vetture stanno mettendo le chiavi all'interno del frigo. Ecco la motivazione che li spinge a fare questo gesto. Tutti quanti coloro che possiedono una patente e che vogliono avere un'indipendenza per potersi spostare da una zona all'altra senza aver bisogno di chiedere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.